Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Molise e Invitalia hanno pubblicato l'avviso sul sito di Invitalia per la raccolta di manifestazioni di interesse ad investire nell'area di crisi industriale complessa di Venafro Campo Chiaro Boiano e aree dell'Indotto. L'avviso ha una finalità meramente conoscitiva e non dà luogo a titoli di preferenza o diritti. Le manifestazioni di interesse devono riguardare iniziative imprenditoriali da localizzare nell'area per la realizzazione di programmi di investimento e sviluppo occupazionale, programmi di investimento per la tutela ambientale, progetti di innovazione dei processi dell'organizzazione, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Gli interessati avranno tempo fino a 3 settembre per presentare le loro manifestazioni di interesse a Invitalia. La scheda da compilare è già disponibile sul sito di Invitalia a partire da ieri e fino alle 12 del 30 settembre 2016. È un'operazione che rientra nell'area di crisi complessa, Invitalia è l'advisor che è stato individuato dal Mise e dalla regione Molise. Sulla goal che è già sul sito di Invitalia, già da ieri, proprio nell'area di crisi, cioè Molise, e viene spiegato un attimino come predisporre la documentazione per le manifestazioni di interesse, che si possono inviare già da ieri fino al 30 settembre. Però è una manifestazione di interesse, cioè non obbliga le imprese in nessun caso e in nessun modo poi ad andare avanti. Vi tengo che sia un modo per capire quali siano le imprese e i settori più o meno interessati e quindi poi poter raddrizzare il tiro con degli strumenti più adeguati. Quali sono i requisiti? I requisiti sono quattro linee principali che riguardano gli investimenti in nuove tecnologie, anziché l'occupazione e via così. Non ci sono requisiti di base particolare, se non quello di avere la sede legale nella regione Molise, chiaramente. E offrire nuova occupazione oppure ricollocare tutti gli ex lavoratori delle varie industrie che hanno chiuso? Sicuramente ci sarà sia nuova occupazione, perché almeno a quello che ho capito si punta molto sulla nuova occupazione, ma anche sulla ricollocazione delle persone che in questo momento sono in cassa integrazione o meglio in mobilità, visto l'avvicinarsi della scadenza della mobilità. Ritengo che in ogni caso la ricollocazione va letta in un'ottica un attimino più ampia, perché il grosso delle persone, dei lavoratori da ricollegare, vengono da pochi settori e quindi ci vuole un intervento in questo caso che poi sia mirato su quei settori più nello specifico.